Amici di Rivera del Conero TV, ci troviamo a Sirolo in compagnia di Alice Marcelli, una delle responsabili dell'ufficio di promozione turistica della città. Ciao Alice, come sta andando quest'estate 2011 per il turismo di Sirolo? Positiva rispetto agli scorsi anni, sicuramente con presenza in aumento sia dall'Italia sia in buona parte dall'estero. Che impressioni hanno i turisti che si trovano qui in vacanza a Sirolo e nella Riviera del Conero? La maggior parte ci fanno tutti i complimenti per le nostre zone perché ritengono la zona veramente bellissima, quindi rimangono tutti o comunque la maggior parte molto soddisfatti del paesaggio e dei servizi offerti. Dall'altra parte della telecamera c'è il pubblico di Riviera del Conero TV, cosa gli consiglieresti di visitare qualora si recasse qui a Sirolo? Sicuramente qui da noi le nostre tre bellissime spiagge, spiagge Urbani, San Michele, Sassinieri e la spiaggia delle Due Sorelle, ma anche il carinissimo centro storico che possono trovare qua in piazza e per tutte le vie del paese. Alice, ti ringrazio per la disponibilità, concludiamo spiegando al nostro pubblico dove è possibile trovare le informazioni per una visita di Sirolo. Allora, noi siamo qua in piazza Vittorio Veneto a Sirolo di fronte alla chiesa e ci trovate aperti tutti i giorni, dal lunedì al giovedì, dalle 10 alle 13, dalle 17 alle 20 e dalle 21 alle 23 e nel fine settimana dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 23. Inoltre potete consultare il sito www.turismosirolo.it. Grazie! Grazie!